Buongiorno a Pietro Martinelli, grazie per aver accettato la nostra richiesta di un'intervista, ex consigliere di Stato, per decenni protagonista e anche testimone della vita politica ticinese e evidentemente in particolare di quella relativa al Partito Socialista. Un partito che va fra poche ore a un congresso di importanza notevole. Si potrebbe dire addirittura storica se si pensa alle scelte che vengono proposte e alle prospettive che potrebbero derivarne, ma anche proprio al dibattito di queste ultime settimane. Un dibattito, andiamo subito dunque Martinelli, che si concentra molto sulla richiesta di Amalia Mirante di poter partecipare, di poter far parte del ticket dei candidati socialisti per il governo di questo cantone. Non è forse una richiesta legittima, visto che l'Ammirante ha già fatto ticket ed ha fatto anche buoni risultati, 17 mila voti di preferenza nell'ultima tornata. Beh, diciamo che sono richieste che di solito si fanno all'interno di una commissione cerca e non avvengono invece come quasi rivendicazione a livello pubblico. Comunque, come accennava lei, sicuramente Amalia Mirante ha dei giustificati motivi per chiedere di poter essere in lista, giustificati motivi che sono rappresentati dal fatto che è stata in lista due volte, eventualmente ci si poteva chiedere la prima volta perché è stata messa in lista, con quali meriti, eccetera, però adesso ha dietro di sé due presenze in lista al Consiglio di Stato e due volte che è arrivata seconda e la seconda volta, come diceva lei, con un risultato anche lusinghiero, vale a dire con 17 mila voti raccolti dall'esterno. Voti che evidentemente non vengono dal partito, ma possono venire da sinistra come possono venire da destra. Intendiamoci una cosa, che questi 17 mila voti sono un bottino suo, non sono un bottino del partito, nel senso che non contribuiscono a aumentare la forza del partito a livello di Gran Consiglio, dove questo conta. Dove si contano veramente alla forza di un partito. I rapporti di forza, dove si contano i rapporti di forza. Perché chi ha dato il voto a Maglia Mirante per il Consiglio di Stato, specialmente se fosse un appoggio che viene da destra, sicuramente non lo ridà a livello di Gran Consiglio. E quali sono invece le condizioni che sarebbero sufficienti e che lei non vede, quindi non ritiene opportuna questa candidatura? Ecco, questa è una domanda abbastanza complessa, comunque facendo riferimento a quello che sono le mie sensazioni, in base a quello che vedo, che sento sui giornali, eccetera, intendiamoci io, data l'età recentemente partecipo poco anche alla vita del partito, però la seguo intensamente attraverso i mezzi di comunicazione pubblica. Ecco, io ho l'impressione che a Maglia Mirante venga fuori solamente in occasione di elezioni e unicamente in occasione dell'elezione per il Consiglio di Stato. Perché lei si è posta questo obiettivo di voler andare in Consiglio di Stato. Lei ha detto non mi presento per il Gran Consiglio perché c'è il rischio che io tolga una possibilità a qualcun altro di entrare in Parlamento. No, beh, questa è una scusa che non sta in piedi perché se uno ha voglia di fare politica, il Gran Consiglio è il luogo dove impara a fare politica, dove impara a conoscere lo Stato, dove impara a conoscere come si portano avanti delle rivendicazioni, delle richieste, delle attese da parte della popolazione e come si cercano anche le alleanze. Quindi è sicuramente un apprendistato non indispensabile ma molto utile per una persona che vuole andare in Consiglio di Stato. Quindi già il fatto che lei salti fuori unicamente in questa occasione e che per quanto mi riguarda non l'ho mai vista presentarsi o venire fuori o prendere posizione pubblica di fronte a altri problemi significativi, altri problemi importanti. Pensiamo per esempio all'iniziativa, la famosa iniziativa Morisoli, a tutto il problema della giustizia fiscale in Ticino. Ecco, non l'ho mai vista, non dico in prima linea, ma neppure comunque a configurare un personaggio politico nel corso del quadrienne. invece viene fuori in occasione rivendicando quasi come naturale una sua candidatura al Consiglio di Stato. Però c'è un gruppo che la sostiene, nel senso che certi dibattiti, magari non viene detto esplicitamente, ma a questo servono. Mirante dice, io rappresento anche un'anima del partito, quello socialdemocratico. Almeno questo deve aver riconosciuto. Sì, no, ma il nostro partito, il partito socialista, sezione Ticino, è a tutti gli effetti un partito socialdemocratico. Dopo potremmo approfondire cosa vuol dire socialdemocratico, quindi non è sicuramente una privativa. Dopo di Amalia Mirante e del gruppo che la sostiene. Ecco, dopo c'è un aspetto sicuramente importante che lei all'interno del partito ha un gruppo, che anche quello viene fuori in questa occasione, che la sostiene. E lei si rivolge a questo gruppo. E addirittura si è rivolta recentemente con una lettera, con gli indirizzi tolti dall'archivio del partito, indirizzata solo a determinati membri del partito. Quindi rivolgendosi unicamente a quei membri, anzi, addirittura non si capisce perché, scusandosi alla fine della lettera se per caso la sua lettera dovesse finire a qualcuno al quale non interessa. Ma questo quindi, lei dice, è un atteggiamento divisivo? Sicuramente lei ha svolto in questo periodo un'azione divisiva del partito. E in conseguenza di questa azione divisiva c'è stato a un certo punto una larvata accusa all'interno del partito che il partito sia troppo di sinistra, intendendo quasi che non sia socialdemocratico. No, avrà la pena di chiedersi cos'è la socialdemocrazia. La socialdemocrazia, buon, ci vorrebbero delle pagine per descrivere com'è, cos'è la lunga storia a partire dalle prime discussioni sul marxismo, su Bernstein, su tutto quello che c'è stato, sul riformismo, sulla rivoluzione contrapposta al riformismo, eccetera. Comunque, sicuramente la socialdemocrazia è una scelta non rivoluzionaria di portare avanti la difesa degli interessi della classe lavoratrice o comunque della parte meno favorita della popolazione. Questa lotta, la socialdemocrazia, l'ha fatta in diversi modi, in diversi maniere. Comunque, soprattutto, là dove ha raggiunto i risultati più importanti, penso alla socialdemocrazia nordica, l'ha fatta con due aspetti fondamentali. Prima di tutto, una fiscalità fortemente progressiva, vuole dire dove i redditi più alti vengono tassati di più, rispettivamente molto di più. La tassazione progressiva è stata accolta ormai da molti paesi democratici, anche se in forme molto diverse e viene sempre rimessa in discussione, specialmente ultimamente con riforme che favoriscono soprattutto le classi più alte di reddito. E in secondo luogo, con la creazione, grazie proprio ai soldi ricavati da una tassazione fortemente progressiva, di uno stato sociale importante che garantisce un reddito minimo anche alle classi più sfavorite di reddito. Questo rappresenta un intervento importante dello Stato per garantire una redistribuzione del reddito, della ricchezza prodotta da tutti che il capitalismo, che l'economia di mercato, da solo non garantisce. Scusi, lei mi sta dicendo che nella linea dell'ammirante non c'è questo concetto di socialdemocrazia. In un'intervista che ha fatto su un quotidiano ticinesi, a Corriere del Ticino, a Corriere del Ticino, Amalia Mirante che sottolinea in particolare la Bad Godesberg, il rifiuto del marxismo, il rifiuto della strada rivoluzionaria e l'accettazione della libera iniziativa, della libertà di mercato e del funzionamento del mondo così com'è. Senza mettere dentro gli aspetti importanti della fiscalità progressiva, specialmente per gli altri redditi, della lotta all'evasione e anche all'illusione d'imposta, senza mettere dentro, in fin dei conti, quegli aspetti che danno un po' fastidio alla destra. Perché, così come la descrive Amalia Mirante nell'intervista a Corriere del Ticino, quella socialdemocrazia lì non ha praticamente avversari. una socialdemocrazia che difende la libertà, che difende la libera iniziativa, che difende la giustizia sociale, eccetera, eccetera, ma ci sono pur dei punti di confronto e dei punti di scontro tra chi difende gli interessi delle classi più disagiate e chi difende il libero mercato. Però forse si può anche riassumere così, lei ha sottolineato le radici ideologiche anche dopo Bank Godesberg, che è stato un momento di svolta. Lei, nella sostanza, mi sembra, dica, insomma, il mercato è fondamentale per fare in modo che poi sulla popolazione, eccetera, ricade. Lo è anche per me fondamentale. Ma? Ma ha bisogno di correttivi, ecco, dei quali lei non parla. Correttivi che sono la funzione dello Stato, una delle fondamentali funzioni dello Stato, per quello che abbiamo bisogno di uno Stato forte, per quello che abbiamo bisogno di una fiscalità importante, per quello che abbiamo bisogno di un funzionamento efficiente ed efficace dello Stato. Non è che lei si stacca da queste cose, semplicemente non le nomina, fa come se non esistessero, no? Perché sono le cose che danno fastidio alla destra. Quindi, cos'è un... Cattassio benevolenzie, chiamiamola così. Senta, una dei rimproveri che vengono mossi a questa direzione, a due, una codirezione del Partito Socialista, c'è quella di una linea verticistica poco abituata o poco propensa al dialogo, al confronto democratico, eccetera. qual è stato, se c'è stato, un errore da parte di questa direzione? Ma, intendiamoci, due anni fa il congresso del Partito Socialista, grande maggioranza, ha eletto la presidenza del partito una ragazza, in fine conti, una ragazza di 24 anni e un giovane di 30 anni. non si poteva non immaginare che avrebbero cambiato il funzionamento del partito, perché i giovani sono fatti per quello, sono fatti per rovesciare le abitudini, per tentare delle vie nuove. Ed è quello che Virget e Sirica hanno fatto, con un'operazione a mio parere illuminata e importantissima, che è quello dell'alleanza con i Verdi. Il Partito Socialista in Ticino esiste dal 1900, 1900, quindi più di un secolo di battaglie dietro di sé e l'idea socialista ha una storia che risale all'inizio dell'epoca industriale. I Verdi sono venuti fuori da 20 anni, non so, sono relativamente una forza recente, 20-30 anni. Il problema è che l'aspetto sollevato dai Verdi, vale a dire il rischio di una catastrofe mondiale, se ci si crede, e ci sono una quantità di elementi che portano a crederlo e una quantità di scienziati che dicono che quel rischio è assolutamente vero, è una cosa che mette in pericolo non la giustizia, non la socialità, non la produzione, la vita dell'uomo su questo pianeta e la vita dell'uomo in generale, non la vita di questo pianeta che continuerà nei millenni, ma la presenza dell'homo sapiens è la continuità della civiltà prodotta dall'uomo sapiens. Quindi lei vede un coraggio prospettico in questa proposta fatta dalla direzione e accolta poi? Io vedo aver messo al centro del dibattito politico un problema fondamentale dei quali magari i partiti tradizionali impegnati nelle loro battaglie tradizionali al quale non avevano sufficientemente pensato. Io reggevo che la velocità con la quale oggi cambia il clima è 700, non 7, ma 700 volte più alta di quando non cambiava nei millenni trascorsi in modo naturale e non come conseguenza delle emissioni nocive della produzione umana nell'ambiente. 700 volte vuol dire che quello che una volta capitava in 700 anni adesso capita in un anno e vuole anche dire che gli ultimi cambiamenti climatici che ci sono stati non so quanti miliardi di anni fa l'uomo se esisteva già esisteva con poche milioni di individui in più nomadi che se a un certo punto in un determinato terreno dove avevano trovato erba per il loro bestiame eccetera venivano degli allagamenti e di qualcosa prendivano su armi e bagagli e si spostavano in un altro posto più adatto. Oggi questo significa migrazione dei popoli oggi questo significa disastri a livello di povertà a livello di significa flussi migratori ma appunto migrazione dei popoli significa tutte quelle cose che non abbiamo sotto controllo e alle quali guardiamo adesso solo quello che sta capitando in Italia col nuovo governo alle quali non abbiamo delle risposte adeguate. E quindi lei dice ecco perché è accettabile anzi è sostenibile anzi bisogna andare avanti sulla strada che in definitiva è stata proposta e decisa oppure nel meccanismo decisionale c'è stato qualcosa che non andava cioè si è si è proceduto senza una sufficiente spiegazione di concetti così importanti non facili da assimilare subito. non solo c'è stato qualcosa che non andava c'è qualcosa che non va perché se io penso adesso al come si chiama quel congresso giù in dove al in Egitto al Sharm el-Sheikh tutti ne parlano Gutierrez eccetera dice che bisogna trovare immediatamente le risposte e se poi penso le risposte queste risposte sperano sempre che le cose non capichino non affrontano se affrontassero seriamente il problema e il problema fosse quello che descrivono beh guardi l'altro giorno sentivo Ermotti parlare in una trasmissione di Modem che non è sicuramente persona quindi l'ex CEO dell'UBS che non è sicuramente persona di sinistra dire il riscaldamento climatico sta e lui lo dice adesso come presidente della più importante società di riassicurazione quindi lui deve anche riassicurare i danni provocati dai cicloni di assicurare le assicurazioni che magari rischiano di fallire per le danni enormi eccetera e lui ha detto se l'aumento della temperatura dovesse essere superiore o uguale non superiore ma uguale ai tre gradi superiore al grado e mezzo noi avremmo un'importante incidenza sul PIL vale a dire la produzione di ricchezza subirebbe una grande frenata questo in un momento in cui già altri elementi creano una frenata del PIL e questo lo dice pensando ai suoi premi ai premi che mette per le riassicurazioni quindi lui avrà fatto anche i suoi calcoli per cui l'incidenza di quanto sta avvenendo col clima dovrebbe determinare un comportamento che cambia le nostre abitudini che cambia il nostro modo di vivere e questo siamo ben lontani dal vederlo io non so nemmeno come potrebbe essere fatto cosa potrebbe significare però significa penso che dovrebbe significare un cambiamento avvertibile mentre oggi noi non ci accorgiamo che cambia il nostro modo di vivere ogni tanto parlano di diminuire la temperatura ma questo per la crisi energetica non tanto per il riscaldamento del PIL ecco ma tutto questo per dire della sua convintissima adesione a questa svolta e a questa diciamo volta anche epocale del partito socialista che si allea con i verdi perché c'è questa prospettiva secondo lei importante strategica di questa scelta dell'alleata con i verdi fatta non a caso da due giovanissimi ma si sono mossi in modo democratico perché questa è l'accusa che viene mossa alla copresidenza cioè di aver sì buttato là questo progetto che non è indifferente evidentemente ma di averlo fatto un po' calando dall'alto la loro visione beh io non so come dicevo non è che partecipo regolarmente anzi partecipo molto poco la vita del partito leggo casomai sui giornali eccetera ma poi sento parlo con i compagni le compagne sento la ripercussione di quel che avviene nel partito io non ho mai sentito che decisioni di questa importanza siano state prese senza essere discusse preventivamente dal comitato cantonale però c'è il fatto e qui mi sembra indiscutibile che Marina Carobbio in qualche modo è stata blindata in questa situazione in questa prospettiva in questa candidatura Marina Carobbio è l'unica che può fare questa operazione per me è l'unica perché io non vedo all'interno del partito che siano maturate delle esperienze di lotta politica di competenza di capacità di portare avanti le proprie posizioni di riconoscimento da parte degli avversari della serietà con la quale lavori come quelle che può vantare che può vantare che vengono che io personalmente attribuisco a Marina Carobbio e che per me la fa l'unica speranza oggi di portare avanti in modo coerente e con dei risultati quelle battaglie di cui parlavamo prima sta di fatto che lì si affianca un giovane candidato quindi questo automaticamente esclude altre ambizioni quelle dell'ammirante per esempio sono automaticamente escluse quindi la blindatura c'è ma perché si arriva alla blindatura ecco lì dobbiamo tornare al fatto di avere due giovanissimi presidenti del partito e all'operazione che loro hanno proposto al comitato cantonale che è stata accettata e poi è stata accettata dalla conferenza cantonale e che è diventata la posizione del partito questa strategia si basa innanzitutto sul mettere alla pari PS sezione Ticino e Verdi sezione Ticino quindi due 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 ecco sul significato di questa parità ne abbiamo parlato vale a dire i meriti storici del partito socialista e i meriti recenti dei Verdi che hanno sollevato un problema che sta diventando centrale che sta diventando non si poteva fare tre socialisti e due Verdi tre socialisti e due Verdi evidentemente avrebbe dato maggiore importanza alla componente del partito socialista rispetto a quella dei Verdi quindi avrebbe tolto questo riconoscimento di parità di importanza delle due componenti di questa alleanza questa cosa si può discutere si può avere delle opinioni diverse ecco però è una posizione che ha una sua logica Tinelli lei sa benissimo qual è la contrapposizione a questo ragionamento la replica a questo suo ragionamento sì ma così in fondo indeboliamo la possibilità del partito di fare un buon risultato se si rinuncia a una candidatura che come è stato sottolineato del resto ha ottenuto i buoni risultati questo ci porta a concludere che il pericolo di perdere una parte dei simpatizzanti quantomeno c'è ma io credo una cosa oggi la politica ha una immagine non delle migliori se non negativa non delle migliori proprio per la sua incoerenza per il suo bla bla per il fatto che non affronta i problemi che non sa prendere decisioni coerenti oltretutto sono dato a vedere il il consigliere di stato uscente Bertoli intervenendo alla conferenza cantonale ha un po' contestato l'idea che una lista di competizione interna sia sempre la premessa per fare un buon risultato e ha citato proprio degli anni in cui per la verità possiamo vedere che uno dei risultati più importanti è quello del 2003 a 24 il partito la personalità forte tra virgolette era la solo la Pesenti mentre nel 99 c'erano Noseda Marazzi Pesenti quindi tre nomi importanti per il partito e si era invece a 17 6 cioè non c'è questo automatismo è giusto non c'è questo automatismo né per il Consiglio di Stato né per il riflesso del Gran Consiglio gli esempi non ci avevo mai pensato a questa cosa devo dire che l'intervento di Emanuele alla conferenza stampa di Bellinzona è stato molto importante perché ci ha mostrato una realtà diversa da quella che si può essere facilmente portati alla narrazione alla narrazione io so con quanto interesse e passione segue l'evoluzione internazionale di molti temi sia a livello di partiti sia a livello di dibattito politico sia per quello che già ci diceva prima in merito a delle prospettive che francamente devono preoccuparci e in questo cambio se vogliamo di realtà anche internazionale che lei situa il suo ragionamento cioè i paradigmi sono cambiati in generale? Sicuramente i paradigmi sono cambiati siamo in una situazione unica che richiede risposte nuove la situazione è molto delicata non solo per il problema della guerra non solo per il problema della crisi ambientale ma anche per il problema della situazione a livello mondiale per il problema delle immigrazioni dei popoli della capacità di rispondere a queste immigrazioni problemi che sono determinati dal modo con cui noi creiamo il nostro sviluppo sono quelle che vengono chiamate le esternalità noi diamo l'esterno dei costi mantenendo i benefici e questi costi che buttiamo all'esterno a un certo punto ci torneranno contro e ci torneranno contro come immigrazione dei popoli ecco oggi rispetto a tutti questi problemi ci troviamo in una situazione assolutamente delicata che richiederà una nuova capacità di risposte in questo senso va molto bene che siano dei giovani oggi condurre il partito che guardano con preoccupazione a questa possibilità di l'importante che lo facciano con quello metodo democratico che lei ha sottolineato dobbiamo andare a una conclusione magari un po' più rapida io ho almeno questa domanda da farle cosa la preoccupa maggiormente alla vigilia del congresso il modo come il congresso accetterà la decisione del congresso stesso oggi vediamo in altre situazioni come ci sia la tendenza a rifiutare la democraticità di un voto evidentemente il fatto che uno vale uno e che quindi nella votazione vinca la maggioranza nella storia e nella realtà ha diverse controindicazioni ma resta l'unico modo inventato dall'uomo per mettersi d'accordo quando ci sono decisioni prese di posizioni opposte quindi la sua preoccupazione è che la direzione non abbia o per la direzione diminuisca il consenso che invece fino adesso ha avuto per portare avanti la sua svolta la sua scelta strategica no la mia paura è che non venga accettata o da parte del partito e della direzione che si dimetta o cose di questo genere o da parte degli oppositori che a un certo punto creino un partito che teme la scissione ma non la temo perché mi pare fuori dalla realtà però potrebbe essere una risposta disperata e in questo caso sciagurata no bisogna dire che l'ammirante non ha mai detto se non sarà così vado alla scissione non ha nemmeno detto escludiamo assolutamente che si possa andare in questa direzione un'ultima battuta la sinistra cioè la destra è così brava a superare le proprie divisioni che magari poi rimangono diciamo sotto traccia e a unirsi la sinistra sembra bravissima nelle divisioni nel crearsi nuove divisioni è come diciamo che la destra ha una forza irresistibile che è quella degli interessi degli interessi al di là della politica degli interessi nell'economia e nel mercato e la politica non ha tutti a destra ma a molti serve a questo no per cui la spinta a difendere quello che assieme potrebbero fare per difendere questi interessi materiali è molto più forte della spinta dialettica che può portarli a dividere nel modo da affrontare i problemi politici la sinistra questa remora non ce l'ha per cui più facilmente porta la dialettica alla scissione è importante che riesca a superare questa questa cosa ma soprattutto è importante che non la porti a un punto tale da distruggere la propria forza da disintegrare la propria forza evidentemente questo è un compito che chi regge le sorti dalla sinistra deve fare proprio infatti vediamo che alcune forze di sinistra in Europa anche molto importanti in passato in qualche modo sono diventati irrilevanti quindi aprendo la porta alla destra e anche alla destra peggiore forse possiamo lasciarci d'accordo su quello che diceva Willy Brandt essere di sinistra è molto più difficile e come grazie Pietro Martinelli grazie a te grazie molto